Siamo arrivati all'ultima fase della lavorazione, ovvero il confezionamento. Confezioniamo i nostri asparagi in mazzi tradizionali, da un chilo, mezzo chilo, in base alla destinazione, e serviamo sia il privato che la grande distribuzione. Quindi, adesso state vedendo come vengono confezionati, con l'apposito attrezzo, vengono legati in mazzi, in questo caso abbiamo un mazzo da un chilo, e il nostro asparago è pronto, dopo la fasciatura, per essere distribuito al consumatore finale. Questi asparagi vanno consumati freschi, quindi tal quali, oppure lavorati in risotti, in pasta al forno, crespelle o quant'altro. Oltre all'asparago fresco, ci occupiamo anche della produzione di prodotto lavorato, e quindi abbiamo fatto una piccola selezione del nostro prodotto. Abbiamo un sugo con pomodoro e il 50% di asparago, lavorato sempre dal fresco. La nostra marmellata dolce, che può essere utilizzata per accompagnare dei formaggi, piuttosto che per la preparazione di dolci. Molto buona la crostata con questa marmellata. E da ultimo il nostro fiore all'occhiello, che è il nostro agrodolce, fatto con asparagini selezionati, una misura molto piccola, da mangiare croccanti e pronti all'uso, tal quali, come si trovano nel vasetto.